Ben 2200 anni di storia, 490 chilometri da Napoli a Reggio Calabria, 44 città in 260 chilometri di percorso, tre regioni, quattro province, tre parchi nazionali, testimonianze di epoca romana, settecentesca, ottocentesca, ma anche siti del Neolitico e del Paleolitico. Questa è la strada reggia delle Calabrie, presentata per la prima volta alla stampa estera a Roma. Uno studio realizzato sul campo durato ben otto anni, racconta l'architetto, storico e delegato archeoclub d'Italia Luca Esposito, che ha dato vita ad un progetto di sviluppo turistico, culturale e sociale che rappresenta una vera novità per l'Italia. Otto anni durante i quali abbiamo studiato le cartografie di fine Settecento per ritrovare un patrimonio culturale straordinario, fatto di 30 taverne ottocentesche, 40 ponti di epoca romana o ottocentesca. Lungo anche il tracciato romano della via Popilia, che abbiamo trovato con una metodologia innovativa di ricerca, aggiunge, possiamo trovare battisteri paleocristiani, siti millenari davvero unici, un patrimonio culturale fuori dai circuiti tradizionali, ma che adesso ha luce. La strada regia delle Calabrie è la strada dello scrittore tedesco Wolfgang Goethe, che la percorse per arrivare a Pestum, o del pittore Jacob Phillips Hackert, dell'ingegnere Robert Mallet, o ancora dello scrittore Charles Didier, del medico e scrittore Derilier e di tanti altri ancora.